Amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto, apriamo con il calcio, prosegue la preparazione della Lucchese in vista della trasferta di domenica sera ad Arezzo, trasferta molto difficile ma potremmo aggiungere Lucchese che convince e non si cambia. Di giovedì pomeriggio è l'acquedotto per la Lucchese che si prepara a completare un tour de force, un calendario che questo scorcio iniziale del 2017 non è stato certamente favorevole. Dopo Alessandria e Livorno i rossoneri si accingono infatti a vedersi la domenica sera ore 20 e 30 con il lanciatissimo Arezzo che nel frattempo è balzato al secondo posto della classifica denotando invidiabile condizione fisica e tecnica. Chi come Galderisi affronta questa gara da ex non può disconoscere che in questo momento avversario e trasferta piuttosta non potevano capitare. Lo dice la classifica, lo dice questa incredibile crescita che sta facendo questa squadra, nell'ultimo periodo ha cambiato pochissimo, gli 11 sono sempre quasi gli stessi, hanno trovato la loro fisionomia e devo dire che esprimono anche un buon calcio, dobbiamo essere molto bravi e stare molto attenti a non farci attirare nella loro trappola, loro vogliono giocare, hanno cambiato anche qualcosa dall'andata, l'andata davano molto più ampiezza, adesso sono molto più dentro perciò hanno più possibilità di giocare e le loro hanno giocatori che sanno giocare, perciò noi dobbiamo essere molto bravi nella comunicazione, nell'ordine e nello spirito di sacrificio che ho visto dal 18 luglio adesso, cioè continuare a lottare uno per tutti e tutti per uno. Il tema della formazione ci fa ragionare ed ipotizzare, in realtà come sovente gli capita, Galderisi preferisce non dare indicazioni precise e quindi spetta al cronista a trarre le dovute conclusioni. Ora, fermo restando che Dermaco ha qualche problemino e che ci sono ancora un paio di allenamenti, ci viene da pensare che al cospetto degli Amaranto di Sottili si presenterà una parente stretta della lucchese se non fotocopia di quella che ha imbrigliato e spaventato il Livorno. Vero che elementi come Maini, che potrebbe prendere il posto di Dermaco, Tavanti, Gargiulo e Raffini scalpitano, ma il Nanu ha la voglia e la saggezza di ripartire dallo schieramento che gli offre le maggiori garanzie. Contro un Arezzo stellare non si può scherzare. Nel recupero di Serie D, Girone, la Lavagnese ha battuto il Ponsacco per 3-1. Questa pertanto è la nuova classifica con i Liguri che salgono al terzo posto con 40 punti alle spalle di Gavorrano, 47, Massese 43. Il Ponsacco rimane a quota 27. Ricordiamo anche la posizione, diciamo, delle nostre. Le Alforte e Querceta con 37 punti, Givivorgo 22, Via Reggio 21. Ma ricordiamo che Savone e Givivorgo hanno una partita in meno. Prestigioso riconoscimento per il Jazz and Basket Le Muralucche. È stata la direttore sportivo Lidia Gorling a ricevere nella stupenda sala del Tricolore di Reggio Emilia, là dove nacque, il premio campione del premio Tricolore. Giunto alla terza edizione, il premio è stato istituito nel 2015 per le massime serie dei campionati maschili e femminili italiani, delle discipline sportive che vanno dal calcio alla palla a canestro, dalla palla a nuoto alla palla a volo, fino al rugby. E qui abbiamo visto appunto Lidia Gorling nel momento della premiazione. Ancora basket nel recupero del campionato di serie C di basket femminile. La formazione del sistema gestionale Via Reggio ha vinto 48 a 44. La partita è giocata sul campo dello Sport IS disputata al Palasport di Pisa. Una vittoria che permette alla compagine Via Reggina di salire al sesto posto con 10 punti nel girone A del campionato di serie C regionale. Pugilistica lucchese pronta per la stagione 2017. Tanti volti nuovi ma speranze anche dai veterani, mentre Marvin Demollari e Davide Didonato passano neoprofessionisti e Nicola Anchiri, sempre tra i professionisti, cerca la strada per il titolo italiano del Super Piuma. Tra pochi giorni il via ufficiale alla stagione con la partecipazione al torneo NEPI di Firenze. Pugilistica lucchesi saranno sei, Lorenzo Frugoli, Francesco Genovesi, Gasper Cuncia, Leonardo Monsele San Arientro, Andrea Bosio e Joel Santos, unico iscritto negli Elite. Campionato o Coppa non fa differenza, la palla a volo massa vince sempre. Il primo impegno dei quarti di finale vedeva la squadra di Andrea Masini giocare a Montichiari. Bene, gli apuani hanno vinto per 3 a 1, con i seguenti parziali 25-23, 29-27, 20-25 e 25-20. Il prossimo impegno degli apuani, che hanno ipotecato la Final Four, sarà in casa il 24 febbraio alle 20.30 al Palasport di Camaiore contro i friulani del Gori Wines Prata, formazione di Pordenone. Siamo ai motori, parliamo dell'Elsegate 2017. Tornano al ciocco fra poco più di una settimana i Signori dell'Inferno. I Signori dell'Inferno tornano al ciocco con la 14esima edizione di Elsegate, gara ideata e voluta da Fabio Fasola. 130 piloti, il numero massimo di adesione è stato raggiunto in un battivaleno, saranno chiamati a sfidarsi su un percorso avvincente ma anche terribile, completamente disegnato sulla montagna del ciocco. I concorrenti dovranno affrontare via impervi ostacoli di impegno progressivamente crescente, talvolta anche artificiali, secondo la nuova tendenza, fino alla resa dei conti nell'inviolabile arena del Picco del Diavolo, il teatro che, gremito di pubblico, fu il momento clou della competizione nel 2016. Al centro della sfida di questa edizione, la grande rivincita lanciata da Graham Jervis, il fuoriclasse britannico, detentore di 24 vittorie al ciocco, al giovane campione sudafricano che lo scorso anno gli stappò lo scettro, Wade Young, attese anche per le performance dello spagnolo Mario Roman, che inaugurò proprio nel 2016 al ciocco la sua carriera nell'enduro estremo e di quel Diego Nicoletti che l'anno scorso fino all'ultimo fece trattenere il fiato a tutti i tifosi. Nell'elenco degli iscritti compaiono anche nomi di giovani piloti locali da tenere d'occhio, come Riccardo Piacenza e Valentin Nita. Proprio l'ultima edizione insegna infatti che la sfida dell'inferno non ha un copione fisso e può aprirsi alla più bella inaspettata delle sorprese. La competizione si disputerà sabato 18 febbraio, si inizierà la mattina alle 8 con la fase eliminatoria, circa 40 km che servirà da passaporto per la parte decisiva del pomeriggio. Alle 16.30 infatti i finalisti si disporranno sulla griglia di partenza per dare vita tre ore dopo al grande piloco sul mitico picco del diavolo. L'evento, portato a battesimo da ciocco, apre la sfida mondiale del World Heart Enduro Series, in qualità di evento EPI. Le pillole sulla storia del rally del ciocco della Valle del Serchio. La quarta edizione fu disputata nel 1979 e fu vinta ancora da d'artico Budafieri, stavolta affiancato alle note da un certo Maurizio Icio Perissinot, che da lì a qualche anno avrebbe inventato il ciocchetto. Budafieri si impose guidando con la sua proverbiale classe una Fiat 131 Abarth, la vediamo in questa foto, e concesse un clamoroso tris, ma i suoi trionfi sulle strade della Garfagnana non sarebbero ancora finiti. Ne parleremo nelle prossime edizioni. Per tutta questa documentazione fotografica voglio ringraziare ancora una volta l'archivio l'amico Moreno Mafucci. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva, vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa il Tg prosegue con la terza ed ultima parte.